Dottor Messina, quanto vi preoccupa la fibrillazione che c'è nel mondo anarchico? In questo momento storico questa effervescenza in tema di 41 bis per chi si occupa di questioni che hanno a che fare con la criminalità organizzata mafiosa è importante. Quindi mi sta dicendo che potrebbe esserci una saldatura tra gli interessi degli anarchici e quelli della criminalità organizzata, in particolar modo di Cosa Nostra? Noi vogliamo scongiurare un'ipotesi di questo tipo, tuttavia questa coincidenza potrebbe anche giovare a situazioni che in questo momento sono molto oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata mafiosa che è molto interessata alla gestione di questioni che riguardano il 41 bis e più in fondo il cosiddetto ergastolo ostativo.